Sentenza flash, quella del Tar del Veneto che ha riammesso alla corsa per le regionali la lista No Indipendenza Veneto che appoggia Luca Zaia e che era stata inizialmente esclusa nella circoscrizione di Venezia dopo il ricorso presentato da Indipendenza Veneta. Sono stati velocissimi, hanno deciso di riammetterle a nostra lista come è giusto che sia. In fin dei conti non poteva essere altro che così. I cittadini hanno il diritto di poter esprimere la loro opinione e in modo particolare hanno il diritto di esprimere la loro opinione nel momento in cui c'è un percorso indipendentista che corre assieme a Luca Zaia. Ora Indipendenza Veneta può ricorrere al Consiglio di Stato? Teoricamente mi risulta che fino a domani ci sia la possibilità di presentare un ricorso al Consiglio di Stato. Credo che dopo il Tar difficilmente qualcuno abbia il coraggio di poter fare ancora qualcosa considerando che il Tar è stato estremamente tassativo e categorico anche nella risposta a Vrossia. La campagna è appena iniziata ma tra i gruppi indipendentisti è già in atto una lotta fratricida. Perché l'indipendenza non è un totem, è un risultato da raggiungere democraticamente, legalmente, in modo virtuoso e con tutti quanti assieme. Ora io auguro alle altre liste indipendentiste o autonomiste di avere il massimo del risultato perché poi gli altri ci conteranno in gruppo e se vogliamo spostare qualcosa bisogna contare un pochino. Noi abbiamo scelto di lavorare anche per la governabilità.